Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene e bentornati qui sul canale per un nuovo appuntamento, un nuovo video. Tanto vi ringrazio perché ieri siete stati super presenti, doppia live, una nel pomeriggio qui su YouTube, domande e risposte. È andata via molto tranquillamente, un'oretta molto interessante e anche quella invece svolta su Twitch ieri sera dove abbiamo gufato, non è andata proprio bene, guarda c'è ancora la maglia qui per la gufata di ieri sera, la maglia ovviamente del Barcellona perché ieri sera si tipava per il Barcellona contro il Napoli perché se il Napoli esce contro il Barcellona agli ottavi finali di Champions League la Juventus l'anno prossimo sarà qualificata per il Mondiale e per il Club a meno che poi la Lazio non vada a vincere la Champions ma è una possibilità abbastanza remota, diciamo così. Quindi vedremo al ritorno cosa accadrà, il ritorno che si giocherà mi pare il 12 di marzo, quindi in quella data sapremo qualcosina di più su quello che sarà il nostro punteggio per il Mondiale e per il Club. Poi c'è da dire che la Juventus in questo momento di Mondiale e del Club non dovrebbe pensarci perché noi dobbiamo focalizzarci sulla sfida di domenica in casa contro un Frosinone che nelle ultime quattro partite ha fatto un punto, la Juventus nelle ultime quattro ne ha fatti due, il Frosinone nelle ultime quattro ne ha fatto uno e di questo ho parlato anche nell'ultimo articolo che ho scritto trovate come sempre tutti i link in descrizione, magari ve lo lascio anche nei commenti se volete andarvi a leggere l'ultimo articolo che è uscito proprio ieri sera e quindi più che il Mondiale e per il Club, diciamo focalizzati su un momento di crisi e affrontare anche una squadra come il Frosinone ti dà la sensazione di essere tutto tranne che scontato. Quindi mettiamo da parte un attimo il Mondiale e per il Club che rimane comunque per me un obiettivo perché è la prima edizione e vorrei giocarla, però in questo momento pensarla a Juve che va a confrontarsi con le migliori squadre di tutti i paesi è qualcosa di strano e di distante dalla realtà, anche pensando eventualmente alla Champions League dove comunque le italiane sono ancora imbattute perché il Napoli pareggia col Barca, l'Inter vince con l'Atletico, la Lazio vince con il Bayern Monaco, quindi tutte le altre italiane in Europa, nell'Europa che conta, stanno comunque facendo la loro figura. Noi dobbiamo invece pensare per il momento a piccoli passi sul Frosinone perché non è tu scontato niente e infatti poi arriveremo nella seconda parte del video a parlare di quella che sarà eventualmente e molto probabilmente anche una svolta che Allegri vorrà dare dal punto di vista tattico della formazione perché ieri in partitale d'allenamento di fronte ai tifosi è stato provato il 4-3-3 sia tra la squadra dei titolari sia nella squadra delle riserve perché ovviamente poi si sono mischiate un po' le carte e voglio parlarvi di questa cosa. Prima però mi è venuto in mente un discorso da farvi proprio ieri mentre eravamo in live abbiamo analizzato diverse situazioni, ecco c'è un discorso in particolare che non abbiamo toccato e che mi è venuto in mente questa mattina mentre facevo colazione quindi ho detto qualche minuto lo rubo prima di parlare del 4-3-3 per focalizzarmi su una possibilità relativa appunto al futuro della Juventus al futuro in panchina di Massimiliano Allegri perché noi stiamo continuando a raccontarci una storia che è una storia che deriva dalla pura logica e cioè Allegri in panchina per la Juventus l'anno prossimo senza rinnovare non esiste perché avrebbe soltanto un anno di contratto ieri vi dicevo ma provate a immaginare già adesso ogni conferenza stampa sono domande sul futuro di Allegri provate a immaginarvi se Allegri inizia un altro anno in panchina senza rinnovo la Juventus passerebbe automaticamente in secondo piano e stamattina proprio mentre ascoltavo anche il video di Romeo Agresti è tornata fuori questa lettura diciamo così perché anche Romeo diceva se poi la Juve non se ne parla più se parla solo del futuro del tecnico provate a immaginare che brutti presupposti confermo lo dicevamo proprio ieri qui in live e mi fa piacere che anche Romeo sia andato a dare una lettura simile perché secondo me questa è proprio la lettura perfetta però ribadisco noi in questo momento stiamo ragionando per logica e la logica ti impone di pensare la logica ti impone di pensare che Allegri l'anno prossimo in panchina senza rinnovo di contratto non ci andrà ma anche per un discorso legato alla fiducia se la società si fida di Allegri non lo manda in panchina con un solo anno di contratto se lo conferma lo conferma per fiducia e quindi cerca di fargli un rinnovo di contratto perché sennò di fiducia non si può parlare e allora proviamo a immaginare invece uno scenario in cui la Juventus fa effettivamente questa cosa cioè fuori dalla logica ma non c'è un'ufficialità che ci dice Allegri in panchina con un anno non ci va è la logica che te lo impone di pensare quindi proviamo a immaginare un scenario in cui invece Allegri va in panchina l'anno prossimo con un solo anno di contratto senza rinnovo e perché potrebbe accadere questo? per un discorso che si stacca completamente da quello sportivo meritocratico di obiettivi o di risultati semplicemente per il fatto che Allegri ha un ultimo anno di contratto e la Juventus magari non può permettersi di pagare un altro allenatore con Allegri ancora libro paga perché negli ultimi anni Allegri è stato esonerato ed è stato fermo gli abbiamo pagato un anno di contratto Sarri è stato esonerato è stato fermo gli abbiamo pagato un anno di contratto Pirlo è stato esonerato aveva un anno di contratto gli abbiamo pagato l'ingaggio ancora una volta la Juve cambia l'allenatore quando rimane un solo anno di contratto? boh può essere vediamo sicuramente aver fatto quattro anni di contratto non aiuta però negli ultimi annati abbiamo visto fare così a parte della Juve ma noi non sappiamo se oggi la Juve ha la potenza economica di andare anche su un altro profilo e insieme pagare un anno di contratto rimanente dell'allenatore attuale poi magari ci sarà un gentleman agreement cosa che non c'è stata invece nella prima parte di avventura di Allegri il primo esonero di Allegri appunto Allegri è stato fermo gli è stato pagato l'ingaggio poi se Allegri dovesse trovare un'altra squadra andare subito in panchina è un altro discorso però anche l'altra volta è stato fermo due anni un anno pagato un anno non pagato prima di tornare alla Juve quindi attenzione a dar per scontato il fatto che perché poi qui stiamo facendo i conti senza l'oste l'oste in questione sono i soldi della Juventus la situazione economica della Juventus perché è ovvio che se hai fiducia in Allegri lo rinnovi se non hai fiducia in Allegri lo cambi ma se non hai fiducia in Allegri non hai soldi magari c'è anche la possibilità in cui sei costretto ad iniziare una nuova stagione per ragioni economiche e non sportive con un allenatore che invece in questo momento non è quello che avresti confermato ipoteticamente sono tutte ipotesi perché c'è anche l'ipotesi che la dirigenza sia felicissima meravigliosamente contenta del lavoro di Allegri e lo voglia tenere per quello c'è anche questa non abbiamo ufficialità in questo senso dobbiamo semplicemente aspettare invece dobbiamo aspettare un po' di meno per quella che sarà Juventus Frosinone con il sold out ne abbiamo parlato ieri ma con probabilmente anche delle novità perché Allegri è andato a ridisegnare un pochettino la Juventus e appunto ieri nella partita dell'allenamento 4-3-3 contro 4-3-3 ora io vi voglio mostrare due formazioni perché ripeto c'è stato un mix tra titolare e riserve però lascio anche a voi il giudizio intanto vi leggo le formazioni nei casaccati rosa abbiamo un 4-3-3 con Pinsoglio in porta Kostic e Weah a Tersini Rugani e Bremer centrali Locatelli Miretti e Alcaraz come trio di centrocampo in attacco Chiesa sinistra Cambiaso a destra e Vlaovic al centro metto qui anche in sovraimpressione una foto del tridente Cambiaso Chiesa Vlaovic in occasione del secondo gol della Juventus dei tra virgolette titolari dei Rosa la partitella si è conclusa appunto per 2-0 gol di Vlaovic e di Chiesa il gol di Chiesa arriva su assist di Cambiaso in contropiede proprio perché Cambiaso giocava a largo nel tridente nel 4-3-3 la seconda formazione invece era composta da Chiesny Iling e Fagioli come Tersini Fagioli per ragioni numeriche è stato schierato in quella posizione Thiago Jaloe e Gatti come difensori centrali Nicolussi Caviglia Rabiot e McKennie a centrocampo quindi qua le mezzalli titolari e di là il mediano titolare è in attacco un attacco un po' così composto da Nonge a destra fuori posizione pure lui Milik riferimento centrale e Ildis che parte dalla sinistra anche in questo caso in sovraimpressione vi metto la linea a 4 della difesa dei gialli e quindi possiamo veramente osservare che la Juventus stava difendendo e attaccando con una linea a 4 alcune considerazioni sparse di quelle che sono le cose che abbiamo visto intanto Alcaraz che io mi immaginavo più centrale mi immaginavo una sorta di 4-2-3-1 ecco quindi Alcaraz dietro Vlaovic con due esterni al suo fianco invece no provato come mezzala addirittura Alcaraz è il suo ruolo la mezzala boh vedremo non lo so a me sembrava molto più un giocatore per vie centrali non mezzo esterno però vediamo un po' cosa succederà cambiaso alto e guia basso ecco qui non mi trovo particolarmente d'accordo abbiamo tra l'altro già visto questa soluzione abbiamo visto la partita in corso mi pare contro Udinese e non ero stato proprio felicissimo di questa cosa semplicemente perché per me andrebbero invertiti poi UEA in questo momento non mi ha ancora convinto sono sincero è un giocatore che non ho ancora inquadrato capisco che possa avere delle peculiarità abbiamo visto che ha un buon tiro dalla distanza una buona accelerazione ma pecca tanto di altre cose e metterlo come terzino quindi come difensore a maggior ragione in una Juve che parola di Allegri deve tornare a essere attenta a non subire gol mi sembra più un azzardo invece Cambiaso che è più un terzino di ruolo lo metterei lì con UEA più alto per sfruttare almeno la velocità nelle ripartenze questa è un po' la mia lettura poi tra l'altro in realtà Cambiaso lo sposterei a sinistra perché anche l'altro giorno vi avevo portato una potenziale ipotesi legata alla formazione della Juventus con Kostic terzino di sinistra e vi dicevo ragazzi ma a me Kostic terzino non mi convince tanto poi lo può fare sì lo potrà fare potrà migliorare indubbiamente però non è il suo ruolo Kostic è un esterno da difesa a tre quindi è un quinto letteralmente un quinto ma soprattutto se Chiesa gioca alto a sinistra e Kostic gioca basso a sinistra sono due giocatori che secondo me si vanno a pestare molto i piedi perché entrambi adorano stare larghi Kostic è un campione di ampiezza Chiesa è un giocatore che parte da lì e poi o taglia dentro il campo oppure va ancora una volta in ampiezza per mettere il pallone in mezzo quindi semplicemente mi immaginavo più Cambiaso lì perché Cambiaso dovremmo anche giocare dentro il campo poteva venire a crearsi anche quella situazione che il Milan fa molto bene sulla fascia sinistra tra Teo e Leao quindi quando Teo viene dentro il campo Leao si allarga o viceversa quando Leao entra dentro il campo si allarga Teo Kostic e Chiesa questo giochino secondo me per caratteristiche fanno un po' fatica a farlo poi secondo me non vedremo questa Juve dei titolari casaccati che ha vinto 2-0 titolare contro il Frosinone perché secondo me guardate è quasi impossibile che la Juventus giochi intanto con le mezze ali Miretti Alcars dal primo minuto secondo me Rabiu giocherà 100% e McKennie al massimo metterzino destro perché non mi immagino Kostic e Gua a terzini però intanto ci sono delle prove si sta mettendo in discussione il lavoro soprattutto il 3-5-2 che vediamo da circa un anno e mezzo questa è cosa buona e giusta secondo me perché in questo momento quando le cose non vanno bene bisogna dare anche una scossa io prima stavo ascoltando le parole di Agnelli dopo la sconfitta di Maccabi ricordate bei momenti che vi tiro fuori mi era comparso il video e mi faceva impressione principalmente perché l'analisi del presidente dell'ex presidente della Juventus era la seguente in questo momento dobbiamo fare gruppo ritrovare lo spirito di gruppo la volontà di sacrificio fare quella corsa in più per gli altri e bla 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 è stato un anno e mezzo circa e siamo qui ancora a ridirci le stesse cose quindi mi fa piacere che effettivamente si lavori dal punto di vista tattico su qualcosa di differente proprio perché il campo ti dice che le cose non vanno bene poi è ovvio che lo spirito di sacrificio il gruppo l'atteggiamento sono cose importantissime ma non possono essere le uniche cose da prendere in considerazione ecco questa è una cosa che secondo me va sottolineata con grande chiarezza e quindi voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti perché ci sono diversi spunti di riflessione dal futuro di Allegri l'ipotesi che vi ho paventato relativa appunto a una situazione economica più che sportiva e quelle che dovrebbero essere le modifiche che potremmo vedere già di Juventus esplosirone dal primo minuto ha partito in corso però qualcosa si sta provando piccolo cioccolatino diciamo così di Juventus